salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono super entusiasta di portarvi sul canale la mia realizzazione di un progetto che ho costruito dopo tantissime ore di lavoro ma che secondo me ha avuto il risultato che avevo io nella testa quindi sono contentissimo di condividere con voi questo progetto perché è sicuramente qualcosa che potrebbe interessare anche a voi perché questo è servito per risolvere un problema che avevo io ma che sicuramente colpisce anche tanti di voi allora tutto è nato parecchio tempo fa perché comunque a me piace utilizzare i giochi di guida con la mia console in questo caso xbox serie x però per fare questo non lo posso fare qua in salotto perché utilizzare i giochi di guida con un volante è impossibile farlo qua in salotto non c'è un punto di fissaggio tra il divano e la televisione quindi bisognerebbe portare qua un tavolo andare a fissare il volante con il tavolo che sta qua in salotto cioè capite che potrebbe veramente scatenare l'ira femminile all'interno del nucleo familiare quindi per evitare tutto questo era parecchio tempo che pensavo a qualcosa che potesse evitarmi appunto tutti queste problematiche familiari però che mi permettesse allo stesso tempo di utilizzare qui in salotto il volante di guida sì perché normalmente per utilizzare il volante io cosa dovevo fare andare a prendere la console smontarla scollegare i cavi portarla nello studio collegare i cavi a quel punto andavo a collegare fissare il volante a quello che era il piano dello studio e potevo utilizzare i miei giochi di guida ma poi si poneva il problema al contrario perché a me piace utilizzare non solo i giochi di guida ma qualsiasi tipo di gioco però in tutti gli altri giochi a me piace utilizzare il comodo sul divano quindi mi trovavo che magari volevo giocare a qualsiasi cosa che non fosse un gioco di guida e la console era nello studio quindi vai a prendere la console riportala qua nella sua postazione in salotto e potevo utilizzare quello che erano tutti i giochi non di guida ma poi arrivava il problema contrario quando volevo utilizzare i giochi di guida sposta tutto un'altra volta allora partiamo dal presupposto che io non sono un fanatico della simulazione a me piace utilizzare i giochi di guida mi piace divertirmi utilizzandoli appunto con un volante infatti ho un volante entry level della Ori che però mi permette di divertirmi infatti ho molti giochi di guida nella mia console ne ho 1, 2, 3, 4, 5 giochi di guida dai giochi di rally ai giochi di formula 1 ai giochi come assetto corsa quindi vedete che c'è veramente di tutto dal punto di vista della guida però mi piace ovviamente giocare anche ad altro quindi il mio problema era trovare il modo di utilizzare il volante qui in salotto così da non dover spostare la console ma soprattutto utilizzare il televisore che ha una dimensione maggiore rispetto ovviamente al monitor che ho nello studio quindi l'obiettivo era utilizzare la console, il televisore e il volante qui in salotto il progetto nella mia mente è iniziato parecchi mesi fa appunto perché questo problema c'è da tempo di voler utilizzare qua il volante quindi dopo aver elaborato nella mia mente malata il progetto ho messo su carta quello che appunto avevo elaborato nel mio progetto facendo un disegno proprio professionale dove mettevo giù la forma e le misure dei pezzi di legno che mi sarebbero serviti per iniziare la struttura del progetto una volta fatto questo disegno super professionale cosa ho fatto? sono andato in garage nel mio angolo dove ho tutto il mio legname di recupero che ho diciamo depositato in quell'angolo nel tempo e ho guardato di avere tutti i pezzi necessari sì perché così era l'obiettivo anche di questo progetto creare qualcosa che mi permettesse di utilizzare il volante in questa posizione che sia trasportabile che sia poco ingombrante quando non lo utilizziamo per andare a riporlo in qualsiasi angolo della nostra abitazione e come ultimo obiettivo era costruirlo con pezzi che avevo già in casa quindi acquistare il meno possibile infatti il 90% di quello che sono i pezzi di tutto il progetto erano pezzi che avevo già in casa solo un 10% è stato acquistato quindi raggiungere questi obiettivi era difficile ma era una sfida davvero intrigante quindi una volta che ho visto di avere tutti i legni disponibili bisognava però andarli a tagliare perché ovviamente essendo legni di recupero non erano già a misura quindi sono andato a prendere tutte le misure ho segnato su ogni legno il punto di taglio era il momento di tagliarli ho preso la mia sega circolare e sono andato a tagliare tutti i pezzi ho cercato di farlo nella maniera più precisa possibile per quello che sono le mie doti di falegname che ovviamente non sono un granché sono riuscito però a tagliare in maniera decente tutti i pezzi una volta fatto anche questo passaggio bisognava andare ad assemblarli quindi per assemblarli bisognava andare a forare il legno andare a mettere delle vite autofilettanti e andare a comporre tutto in maniera precisa anche in questo caso per avere una stabilità e avere diciamo una simmetria in quello che era la composizione finale di tutti questi pezzi di legno e una volta finito questo passaggio è arrivato il momento di andare a creare quello che era il piano d'appoggio della pedaliera bisognava però andare a creargli il movimento di chiusura e qua è stato il primo acquisto andare ad acquistare due cerniere due cerniere che ho acquistato al brico perché non avevo in casa quindi andandogli a mettere queste due cerniere adesso era possibile andare a richiudere il piano d'appoggio della pedaliera una volta fatto anche questo passaggio è arrivato il momento di andare a forare la parte superiore dove sarei andato a fissare il volante e ho fatto il foro centrale il foro che è quello dove normalmente il volante ha la vite di fissaggio rapido a morsetto quello che normalmente utilizziamo per fissare la scrivania e una volta fatto anche questo è arrivato alla parte più complicata cioè dare una stabilità perché dico dare una stabilità? perché ovviamente la struttura come vedete è molto stretta perché l'obiettivo era creare qualcosa che fosse poco ingombrante però la stabilità sui lati ce l'abbiamo perché comunque lui è largo però è stretto perché come sapete quando noi andiamo a guidare giriamo il volante sia a destra che a sinistra e tutto va bene ma allo stesso tempo applichiamo una forza verso di noi e in avanti quindi avevo questa instabilità di quello che era tutta la struttura quindi ingestibile dal punto di vista della guida durante una simulazione di guida quindi questo è stato un passaggio complicato perché per andare a creare qualcosa che mi desse una stabilità ma che allo stesso tempo non fosse invasivo perché non volevo mettergli qualcosa che andasse ad aumentare quello che era la dimensione finale della struttura della mia postazione di guida Only One dovevo creare qualcosa di non sporgente o meglio che magari poteva diventare sporgente quando la utilizzavo ma che poi andava a sparire nel momento in cui andavo a richiudere il tutto e questo ragazzi è stato un problema complicatissimo non so quanto tempo ci ho perso tra prove e controprove per creare qualcosa che mi desse stabilità ma alla fine ce l'ho fatta infatti vedrete tra poco quanto è stabile adesso questa postazione di guida Only One quindi una volta risolto questa parte sono andato a fissare la pedaliera per fissare la pedaliera ho usato delle staffette d'alluminio che avevo già io a casa quindi non le ho acquistate e sono andato tranquillamente a fissarle in maniera super semplice quindi una volta fatto tutto questo la postazione di guida diciamo era pronta per quanto riguarda l'utilizzo e la praticità dell'ingombro nell'andare a chiudersi e riaprirsi però mi mancava la trasportabilità che era appunto un altro degli obiettivi da raggiungere quindi mi servivano due ruote e una maniglia perché l'obiettivo di questa postazione di guida Only One era farla diventare un trolley quindi prenderla dalla maniglia inclinarla e trascinarla come un trolley o una valigia la soluzione primaria era acquistare ovviamente una maniglia e delle ruote però rimanendo sempre nel concetto di voler acquistare il meno possibile che era una delle sfide che mi ero posto mi è venuto in mente di avere in garage abbandonato da tempo ma da anni ragazzi un carrellino di quelli che si usa per andare a fare la spesa per caricare delle cassette cioè quei piccoli carellini che vendono anche su Amazon che costano pochissimo che avevo abbandonato perché non utilizzavo più e la cosa interessante è che da questo carellino potevo andare a recuperare sia la maniglia che le ruote quindi ho messo il carellino nella morsa e con il seghetto del ferro ho tagliato i tubolari d'alluminio per quanto riguarda la maniglia una volta fatto questo ho forato i tubolari d'alluminio per andare ad inserire delle viti che avrei avvitato direttamente nella struttura della mia postazione di guida Only One poi ho fatto la stessa cosa con le ruote quindi sono andato a segare il perno di metallo che univa le due ruote ed ecco fatto che avevo anche le mie due ruote a questo punto per fissare le ruote ho preso due staffette di metallo che avevo sempre in casa e fissandole direttamente alla struttura con le viti autofilettanti e andando a mettere delle viti col bullone autobloccante le ruote ho creato appunto la trasportabilità maniglia ruote a questo punto tutto era pronto una volta verificato che il tutto funzionasse che fosse veramente possibile utilizzarla come postazione di guida per stabilità praticità cioè tutto doveva essere a posto è arrivato il momento di dargli un tocco finale un po' più diciamo aggressivo quindi ho preso un paio di bombolette acriliche nere questo è stato l'altro acquisto ho verniciato tutto di nero rendendo tutto omogeneo tra pedaliera volante ed intanto ovviamente tutto un colore omogeneo che gli dà anche quel tocco di aggressività e soprattutto dal punto di vista dell'impatto visivo sicuramente molto molto più accattivante quindi ragazzi questo è stato tutto il lavoro che c'è stato dietro per creare la mia postazione di guida da salotto only one trasportabile e non ingombrante quando non la si utilizza e poi è possibile utilizzarla come vedremo con qualsiasi sedia ma adesso una volta che vi ho spiegato come ho fatto a realizzarla e come ho fatto a costruire questa postazione di guida only one è arrivato il momento di farvela vedere e per farvi capire al meglio cosa intendo per poco ingombro quando non la si utilizza andiamo a recuperarla dove io la vado a riporre quando non la utilizzo andiamo perfetto ecco qua la mia postazione only one salva spazio da salotto richiudibile trasportabile avete visto con che semplicità è possibile trasportarla attraverso la sua pratica maniglia e le sue pratiche ruote però come vedete adesso è richiusa è arrivato anche il momento di vedere con che praticità e semplicità è possibile andare ad aprire quello che è la nostra postazione di guida e poi andare a richiuderla perché comunque questo era anche uno degli obiettivi principali la semplicità e la praticità per fare diventare un trolley la mia postazione di guida only one allora per andare ad aprire è semplicissima basta andare a sollevare questa piccola staffa d'alluminio che ho messo come fermo perché comunque all'interno più di così non va perché sforza ovviamente sul piano del legno mentre all'esterno basta sollevare la staffa ad alluminio ed ecco qua che la pedaliera è già pronta all'utilizzo dobbiamo solo andare a fissare il tirante o meglio quello che è l'irrigidimento totale della nostra postazione di guida che era quello che vi dicevo all'inizio che è stato veramente complicato basta andare ad inserire le due viti qua nei fori prefissati che gli ho messo e ho creato il mio punto di irrigidimento che non gli permette vedete di muoversi minimamente verso quello che è il televisore mentre per la parte posteriore abbiamo questo supporto che o meglio questo appoggio che è richiudibile che basta andare ad aprire e anche da questa parte abbiamo un irrigidimento ragazzi totale quindi abbiamo in avanti qualcosa che non si muove e la stessa cosa verso di me questo è stato veramente un passaggio complicatissimo nell'andare a creare qualcosa che in un attimo fosse possibile andare a richiudere e che non creasse delle sporgenze ulteriori al di fuori di quello che è appunto il volante sulla struttura e quindi vedete che in un attimo basta andare a rimuovere le due viti che abbiamo in questa posizione andare a inserire le viti qua nel suo alloggio andare a sollevare la pedaliera abbassare la staffetta di metallo e richiudere quello che è la parte di appoggio e irrigidimento della struttura per quanto riguarda la stabilità in un attimo posso spostare in un angolo o portarla in un'altra stanza quindi supponiamo che in questo momento diciamo no aspetta non voglio più giocare a un gioco di guida voglio giocare a qualcos'altro o magari diciamo non voglio più giocare a niente guardiamoci un film posso comunque in un attimo andare a sollevare la mia postazione di guida e andarla ad appoggiare in questo angolo e vedete che ho la mia postazione di guida qua e non dà fastidio assolutamente se dovessimo fare qualcos'altro col nostro televisore perché in un attimo l'ho potuta spostare senza nessun problema e allo stesso tempo in un attimo la posso riposizionare adesso la rimettiamo qua perché voglio farvi vedere un altro particolare di utilizzo perché ovviamente bisogna sedersi per utilizzarla e un altro vantaggio di questa postazione di guida Only One trasportabile da salotto è la possibilità di usare qualsiasi cosa per sedersi cosa intendo per qualsiasi cosa adesso vi faccio vedere andiamo a riaprirla eccola qua eccola qua aperta e pronta all'uso ma adesso ci vuole qualcosa per sedersi per poter utilizzare questa postazione di guida Only One ed è qua che entra in gioco un altro fattore positivo che possiamo utilizzare qualsiasi cosa possiamo utilizzare una sedia da cucina tipo questa possiamo utilizzare una sedia da salotto tipo questa o utilizzare una sedia da ufficio o da gaming tipo questa quindi avete visto che molteplici utilizzi abbiamo anche per quanto riguarda la seduta e la sua praticità è secondo me fuori discussione però adesso come ultima cosa secondo me bisogna provarla perché per farvi capire quanto è stabile perché ok la stabilità mentre la ce l'abbiamo appoggiata facciamo così ok è stabile ma mentre la si utilizza veramente farvi vedere che stabilità incredibile sono riuscito ad ottenere quindi adesso direi di provarla allora come vi dicevo all'inizio io non sono un fanatico della simulazione quindi ho un volante base un entry level e l'hory overdrive che è disponibile sia per xbox e pc che per playstation però in questa postazione only one alla fine diventa compatibile con tutto perché qualsiasi tipo di volante o pedaliera la possiamo andare a fissare e andare ad installare tranquillamente quindi non c'è la necessità di acquistare un qualcosa che sia compatibile con l'altra cosa no il volante si adatta tranquillamente alla mia postazione di guida only one quindi se in futuro volessi cambiare volante e comprare qualcosa di un po' più impegnativo in un attimo andrò ad installarlo senza nessunissimo problema quindi volevo farvi vedere appunto la stabilità che come vedete è esagerata perché si muove il volante ma la postazione è ferma perché in più abbiamo anche i piedi appoggiati alla postazione che adesso è una struttura unica con il tirante qua che va a irrigidire e quello che è la staffa AL che mi dà anche una stabilità maggiore per quanto riguarda appunto quando spingo verso il basso o tendo a tirare magari il volante un po' verso di me si muove il volante all'interno di quello che è il suo case ma non la mia postazione di guida quindi adesso proviamo a utilizzare un gioco giusto per farvi capire che non si muove minimamente perché è importante secondo me questo particolare quindi vedere che la postazione di guida rimane stabile è sicuramente il punto di forza di questa postazione di guida only one adesso ovviamente guiderò malissimo perché sto anche parlando io non riesco a fare due cose insieme però vedete che la postazione di guida non si muove guardate guardate quanto è stabile nel suo utilizzo è pazzesca quando all'inizio non riuscivo a trovare un sistema di irrigidimento mi ero veramente molto rattristato perché comunque il tutto funzionava bene ma lei non stava ferma ma adesso ragazzi è immobile quindi potete veramente essere aggressivi quanto volete col volante che lei non si muove adesso mi hanno toccato quindi mi hanno fatto girare mi hanno fatto andare a sbattere ma ci tenevo anche a farvelo vedere in un gioco di rally dove sicuramente abbiamo qualcosa in più dal punto di vista del movimento perché è una continua correzione come sapete il gioco di rally quindi ci tenevo a farvelo vedere anche appunto per quanto riguarda i rally che da questo punto di vista mettono molto sotto pressione la stabilità della struttura proviamo giusto un attimo per farvi vedere qua ancora peggio nel senso che se parlo in quello da rally faccio ancora peggio che nella formula 1 perché io devo stare zitto quando guido però vedete che io devo continuare a correggere perché nelle macchine da rally è una continua correzione adesso sono un attimo in silenzio perché due cose insieme non riesco a farle ma volevo far vedere appunto quanto è rigida la postazione di guida adesso ho sbattuto perché non riesco a parlare e guidare allora ragazzi spero che questa mia creazione vi sia piaciuta che l'abbiate trovata è interessante perché comunque lo so che tanti di voi hanno lo stesso mio problema nel voler utilizzare dei giochi di guida e divertirsi con un volante ma avere comunque l'indisponibilità per quanto riguarda la logistica del mettere il volante in salotto dove si ha il televisore grande dove si ha più spazio rispetto magari a un ufficio o a una cameretta dove ovviamente si ha un monitor più piccolo e dove poi si ha comunque l'indisponibilità magari a utilizzare come me gli altri giochi che si preferisce utilizzare in salotto sul divano quando non sono giochi di guida quindi spostare console e via dicendo quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato le mie tantissime ore di lavoro per andare a creare lei la mia postazione di guida only one tutto in uno da salotto trasportabile richiudibile e con pochissimo ingombro che diventa praticamente un trolley vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante mi raccomando lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante anteprime spoiler anche di questa postazione di guida era arrivato uno spoiler sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i drone e tutta la tecnologia in generale e pubblico davvero tantissimi sconti che comunque vi possono fare risparmiare soldi se dovete già acquistare quel determinato prodotto ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un test un tutorial o una costruzione come questa ciao e al prossimo video ciao